Musica Cordoglio nel mondo degli appassionati di corsa in montagna per la morte di Simone Massetti, il 34enne di Sondrio precipitato sabato pomeriggio durante un'escursione in Val Malenco. Domani i funerali. Musica Sale a 176 il numero dei malati covid ricoverati al Morelli, il primario di terapia intensiva, la gravità delle condizioni e la mortalità sono sui livelli della primavera, accogliamo tutti i pazienti ma siamo al limite. Musica La lontananza da amici e compagni di classe, la didattica a distanza, la ridotta socialità incide sul benessere dei ragazzi, per contrastare il disagio gli istituti superiori attivano il servizio di supporto psicologico. Musica L'organizzazione del giro dalle pagelle ecologiche del 2020 premia la tappa dei laghi di Cancano con la differenziata al 92% limitato all'impatto ambientale, plauso alla sinergia comune volontariato. Musica Buonasera e ben trovati ai telespettatori di Unica Sondrio in apertura del telegiornale Purtroppo La Cronaca. Si terranno domani i funerali di Simone Massetti, il 34enne di Sondrio, morto sabato pomeriggio sul Monte Palino tra la Val di Togno e la Val Malenco. La tragica notizia ha scosso profondamente i tanti amici e chi condivideva con lui la passione per la corsa in montagna. Vediamo. Sta correndo, sorridente, le mani che formano un cuore. Questa è la foto scelta di amici della Caster Rider, associazione sportiva di Castelo dell'Acqua, per ricordare Simone Massetti, operario 34enne di Sondrio, che sabato pomeriggio ha perso la vita sul Monte Palino, mentre era impegnato in un'escursione assieme a un amico. Sul web centinaia di messaggi di vicinanzi di Cordoglio. Simone era molto conosciuto, una persona positiva, con due grandi passioni, la montagna e la fotografia. Quello vediamo al trofeo Massimo Giugno 2020, la popolare gara di corsi in montagna che il 20 settembre si è snodata tra le vie e nei boschi di Albosaggia. L'anno scorso Simone aveva partecipato alla 42 chilometri, il percorso lungo di Valtina Wine Trail, la grande corsa fra vignette e cantine, ed era sempre presente le tante iniziative benefiche organizzate dall'Arianna Fontana Fan Club, come la Corsa di Sara o l'Arianna's Day, con un post su Facebook che il sodalizio di Berbeno si è stretto attorno ai familiari di Simone, mamma Caterina e papà Bruno. La tragedia accaduta sabato pomeriggio in Val di Tonio, sullo Spartiacco e con la Val Malenco, ha raggelato i tanti appassionati di corse in montagna e i tanti amici di Simone. Assieme a un amico stava percorrendo la cresta del Monte Palino, a circa 2400 metri di quota. Sul percorso affrontato dai due escursionisti non c'erano neve o ghiaccio. Simone, secondo la ricostruzione fornita dal soccorso alpino, è scivolato in una zona dove il terreno escosceso è ricoperto di erba secca. Il compagno di escursione, un trentenne di Castello dell'Acqua, ha subito chiesto aiuto. Le comunicazioni, spiega il soccorso alpino, erano però difficili per la mancanza di una buona copertura del segnale telefonico. La centrale operativa di Soreu ha attivato la settima delegazione del soccorso alpino intorno alle 15.30. È partitore di soccorso di Como e di Areu, impegnate anche le squadre territoriali del soccorso alpino della Guardia di Finanza e i Carabinieri. Il corpo senza vita del 34enne di Sondrio è stato localizzato circa 200 metri più in basso rispetto alla cresta del monte. I funerali si svolgeranno martedì 17 novembre alle 15.30 partendo dalla chiesa del Sacro Cuore nel rispetto alle norme attualmente in vigore. Grave incidente nel pomeriggio di oggi attorno alle 16.30 a Roncaglia, frazione di Civo per causa al vaglio degli agenti della polizia stradale di Sondrio. Due auto nel procedere lungo il rettilineo che conduce a Roncaglia di sopra. si sono scontrate frontalmente tre le persone coinvolte, gravi le lesioni riportate dall'occupante di un veicolo soccorso dall'equipe medica dell'elicottero di Areu ed elitrasportato in ospedale e affidato alle cure dei medici per capire quali sono le sue condizioni di salute. Nei reparti Covid dell'ospedale Morelli, altri cinque decessi negli ultimi tre giorni, la gravità delle condizioni dei degenti e la mortalità, spiega il primario della terapia intensiva, è la stessa della scorsa primavera. I numeri della seconda ondata della pandemia sempre di più si avvicinano a quelli della prima. Coronavirus, attualmente i ricoverati nei reparti dedicati del Morelli sono 176, di cui 13 in terapia intensiva e 15 in subintensiva. Dall'inizio della pandemia, in forma SST, Valtelline e Altolario, l'ospedale di Sondalo ha accolto 1.230 pazienti, 479 da metà settembre. Il 10% di quest'ultima tranche, ovvero 49, non ce l'ha fatta, ma più della metà di questi decessi, ben 29, si concentrano nelle ultime due settimane. Negli ultimi tre giorni sono morte cinque persone, tra di loro avevano più di 80 anni, una era nata negli anni 40, una negli anni 50. Giorno dopo giorno ci si avvicina al record di degenti di inizio aprile, oltre 220, con tutti gli immaginabili effetti sull'organizzazione ospedaliera del Morelli e degli altri presidi. Tra i medici in prima linea c'è il dottor Mauro della Morte, responsabile della terapia intensiva. Siamo in una situazione di emergenza, spiega. I pazienti ormai hanno raggiunto i numeri della prima ondata, sono altrettanto gravi e anche la mortalità è sugli stessi livelli. Da noi arrivano quelli più gravi che faticano a respirare, seppur con difficoltà siamo organizzati per accoglierli tutti, ma bisogna evitare di arrivare in ospedale, per questo è fondamentale la prevenzione. Con l'aumento del numero dei pazienti che sono ricoverati in isolamento, lontani dai propri cari, spesso anche per settimane, nei giorni scorsi ASST ha riattivato la segreteria Covid-19, che svolge attività di supporto ai reparti di degenza di Sondalo e ai reparti OBI, osservazione breve e intensiva, di Sondrio, Sondalo e Morbegno. Sette giorni su sette. Gli operatori comunicano con i parenti dei pazienti, senza fornire informazioni di carattere sanitario demandate ai medici che li hanno in cura, organizzano le dimissioni per quanto riguarda i trasporti e il rientro a casa, forniscono istruzioni ai familiari dei malati, che si trovano in condizioni cliniche tali da rendere possibile la permanenza presso la propria abitazione, fanno da tramite per la consegna di effetti personali ai ricoverati. Tra le vittime del coronavirus, anche il colonnello Carlo N., figura molto popolare in Valtellina, dove per quasi 20 anni è stato responsabile del distretto militare nativo di lei. In provincia di Nuoro, l'auto ufficiale dopo la pensione aveva lasciato la Valtellina per trasferirsi a Milano, dove si è spento nei giorni scorsi all'età di 82 anni. Tra i titoli da lui conseguiti, anche quello di ufficiale al merito della Repubblica Italiana. Gli alpini valtellinese, nuovamente in azione all'ospedale da Campo di Bergamo. Da alcuni giorni la struttura realizzata in tempi record, nel pieno dell'emergenza sanitaria, è tornata ad accogliere i primi malati covid. Vediamo. Al momento sono ricoverati circa 26 pazienti in terapia intensiva. L'ultimo è arrivato 10 minuti fa per l'ambulanza. Pierangelo Leoni, 65 anni di Sondrio, segretario dell'Associazione Alpini Sezione Valtellinese e vicepresidente vicario della CRI di Sondrio. Come altri volontari dell'ANA antincendio, in questo momento si trova all'ospedale da Campo di Bergamo, in qualità di responsabile amministrativo della struttura realizzata in soli 10 giorni a fine marzo. Anche lì, nel territorio più martoriato dalla prima ondata della pandemia, teatro di quelle strazianti immagini di mezzi militari in fila per il trasporto delle barre delle vittime del coronavirus, la diffusione del contagio ha ripreso vigore, fortunatamente per ora con numeri di nuovi casi decisamente più contenuti. Un trend che comunque ha visto la riorganizzazione dell'ospedale da Campo, che una decina di giorni fa è tornato ad accogliere persone contagiate. Dieci giorni fa, sempre su richiesta dall'SST e dal Papa Giovanni, è stato di nuovo riassemblato il vecchio ospedale, come era a marzo. Quindi oggi al momento l'ospedale è diviso in due strutture, un padiglione B, che è il vecchio padiglione della fiera, dove da marzo è installato l'ospedale da Campo, e il padiglione A è stato utilizzato sempre dal Papa Giovanni per i tamponi che fanno loro come ASST e per le vaccinazioni anti-influenzali che sono in corso in questo momento. Di cosa si occupano gli alpini? Allora, qui abbiamo una struttura che è quella tipica dell'ospedale da Campo, siamo in sette presenze e ci occupiamo della segreteria 24 ore. Piantoniamo gli ingressi e smestiamo la gente che arriva. Mentre c'è un'altra componente, sempre alpina, che è l'antincendio boschivo, la IB, che si interessa proprio del servizio antincendio. I ricoveri sono in aumento? I ricoveri al momento no, perché oggi ne è arrivato solo uno. La struttura è abilitata per 172 posti letto, 42 di terapia intensiva, un'altra cinquantina di terapia subintensiva, e il resto, gli altri posti letto, sono l'addigenza predimissione. Si è abbassata l'età media dei malati Covid? Si è abbassata perché, per mia esperienza, porto a casa anche gente di 40-45 anni. L'emergenza sanitaria con le misure anti-Covid, che limitano la libertà di incontro e di socializzazione, sta colpendo anche la sfera psicologica di molte persone, proprio per dare supporto previsto il potenziamento del servizio psicologico nelle scuole del nostro territorio. vediamo. Preside, cosa si sente di dire ai suoi studenti in questo momento? Sicuramente è un'esperienza che ci lascerà tutti, in parte almeno, trasformati, però è anche un'opportunità per diventare più maturi. È anche nelle difficoltà che si cresce, si diventa grandi. La pandemia colpisce anche la sfera psicologica delle persone. Così molte scuole della provincia stanno rafforzando la presenza dello psicologo, figura chiave in questo momento di grande difficoltà, in grado di ascoltare e sostenere studenti e insegnanti, messi a dura prova dalle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria. Il nostro istituto da cinque anni ormai ha istituito un servizio di sportello psicologico a vantaggio degli studenti, soprattutto, ma anche di docenti, dei genitori e con interventi se richiesti sul gruppo classe. La novità di quest'anno è che da settembre il Ministero ha previsto un finanziamento specifico per il supporto psicologico in aggiunta rispetto a servizi già in essere e su questo ci siamo attivati e stiamo concludendo una procedura di selezione per un ulteriore supporto. Quali sono le domande più frequenti che vengono sottoposte allo psicologo della scuola dagli studenti in questo periodo di emergenza sanitaria? Ciò che si coglie è un maggior senso di incertezza e di destabilizzazione. L'altro aspetto che viene colto sugli studenti e sugli adolescenti è una situazione anche di chiusura emotiva con una proliferazione nell'utilizzo dei social network e quindi ricerca di relazioni sui social aspetto connesso alla riduzione o limitazione drastica di incontrare i propri coetanei, i propri amici in presenza. Le Olimpiadi sono di tutti, non se ne faccia merce di scambio per altre questioni. I presidenti di quattro delle cinque comunità montane della nostra provincia si esprimono sulla decisione dei sindaci dell'Alta Valle di interrompere ogni confronto con Regione Lombardia. In gioco dicono ci sono gli interessi di tutto il territorio. Non è corretto utilizzare le Olimpiadi quale merce di scambio. I quattro presidenti delle comunità montane della Val Chiavenna Davide Trussoni, di Morbenio Emanuele Nonini, di Sondrio Tiziano Maffezini e di Tirano Gian Antonio Pini esprimono forte preoccupazione e contrarietà per la decisione dei sindaci dell'Alta Valle di disertare la riunione con la Regione per discutere delle opere legate alle Olimpiadi. Non siamo disponibili ad alcune interlocuzioni con la Regione fin tanto che non sarà fatta chiarezza sulla sorte dell'ospedale Morelli. Così giorni fa, a nome di tutti, aveva spiegato il rifiuto il sindaco di Sondalo, Ilaria Peraldini, scrivendo all'assessore regionale Sertori. Uno strappo, peraltro, non sottoscritto dalla comunità montana di Bormio. Le Olimpiadi non sono dell'Alta Valle, ribattono i vertici degli altri quattro mandamenti. Appartengono a tutta la provincia, che è orgogliosa di ospitare un evento di caratura mondiale che dà lustro all'intera nazione. Non può essere un singolo territorio a metterle in discussione. A sollevare il tema con una provocazione, se l'Alta Valle rinuncia, noi siamo pronti, era stato giorni fa Davide Trussoni, numero uno dell'ente della Val Chiavenna, alludendo alla necessità di coinvolgere tutta la provincia negli investimenti mirati al 2026. Una presa di posizione che ora si esprime in maniera più corale. Le Olimpiadi, prosegue la nota dei quattro presidenti, rappresentano un evento unico ed irripetibile, capace di promuovere tutto il territorio, non solo quello in cui le gare si svolgono. Come sempre ci siamo detti, e proprio per questo stiamo lavorando insieme. La partita, insomma, è troppo importante per lasciarne la titolarità al solo comprensorio sciistico in cui le gare si svolgeranno, e permettere che se ne pregiudichi il percorso. In gioco ci sono opere infrastrutturali importantissime che riguardano tutta la valle. Mettere a repentaglio quell'evento o screditare tutta la provincia non è sopportabile da chi, insieme all'Alta Valle, sta cercando di costruire un'opportunità di crescita senza precedenti, un modo di operare che non fa bene a nessuno, prosegue la nota. Ci sono l'impegno ed il lavoro di tutti, regione, provincia, comunità montane, comuni, enti ed associazioni, la rappresentanza tutta del territorio. Abbassiamo i toni e torniamo al dialogo, auspicano i quattro presidenti, l'unico modo per risolvere le questioni aperte. Ad alzare i toni ci pensa il Movimento Gente di Montagna, nato a sostegno del Comitato Pro Morelli. Mi domando se i cittadini di quelle comunità montane la pensino come i loro presidenti, commenta il fondatore Andrea Terzaghi, che rileva come sui social vengono espressi pieno supporto ai sindaci dell'Alta Valle e alla loro decisione di disertare il tavolo per le Olimpiadi, organizzato da Sertori e pesanti cliniche ai presidenti delle comunità montane. Prima di tutto, scrive, viene la sanità, poi l'arresto. La sanità è il primo bene che una sindaco deve tutelare e quella, a non essere, è merce di scambio. Secondo Terzaghi, gli amministratori locali hanno interrotto i rapporti con la Regione perché questa si è mostrata incapace di gestire le risorse economiche per il territorio, indicando come esempio di questa incapacità la mancata ristrutturazione dei padiglioni dismessi del Morelli per crearvi reparti Covid come chiesto dagli stessi sindaci. Figuriamoci, dice gente di montagna, come potranno mai gestire le risorse per le Olimpiadi. Se la Valtellina ha ottenuto le Olimpiadi, conclude, non è grazie alla Regione o a Sertori, ma alle sue bellezze e al suo duro lavoro. Secondo i Lombardie, settimi in Italia nella classifica del gioco d'azzardo, queste le posizioni occupate dalla provincia di Sondrio per arginare il fenomeno coinvolto con iniziative di informazione il mondo della scuola. Vediamo. 1.352 studenti, 81 docenti, 22 scuole della provincia di Sondrio, numeri importanti per il percorso di educazione finanziaria promosso da Fondazione Gruppo Caitova-Tainese e da Feduf nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile e del Mese Nazionale dell'Educazione Finanziaria. L'obiettivo era quello di riflettere sul valore del denaro, sulla sostenibilità, sulla prevenzione delle ludopatie. Diventare cittadini sostenibili, il titolo della lezione dedicata alle scuole primarie. Gli studenti delle superiori hanno invece seguito online il Digital Live Talk, Fate il nostro gioco, promosso dalle due fondazioni, in collaborazione con la prefettura e l'ufficio scolastico di Sondrio. Sono stati illustrati i meccanismi del gioco d'azzardo, le trappole nelle quali è facile cadere. Il gioco lo fa con lo scopo di vendere più possibile. Peccato che le due cose coincidono, perché se io voglio che tu nel momento in cui inizi a giocare una videolotteria, di cui vedete il grafico rosso, poi subito mi ha voglia di tornare a giocare, chiaramente alla fine creerò un gioco che è più facile, che ti crei una dipendenza. L'ha detto questo, è un progetto che ha un obiettivo andare in qualche modo a formare dei leader dei giovani che possano poi fare l'appunto di riferimento per i loro amici nell'aiutarmi a comprendere le cose che Diego ha studiato molto bene questa mattina. Altre due giornate formative sono in agenda il 15 e il 16 dicembre. Il presidente di Creval, Alessandro Trotter, si è rivolto direttamente ai giovani. Voglio dire invece personalmente ai ragazzi, stati attenti alle trappole, perché tutte quelle che sono state descriute sono delle trappole che vi spingono come i topi verso il formaggio a iniziare e quando avete iniziato poi diventa più difficile mettere. Gli organizzatori del Giro d'Italia oggi pomeriggio hanno premiato chi si è distinto nel corso dell'edizione 2020 per l'attenzione all'ambiente. Ride Green, il nome del progetto di sostenibilità legato alla raccolta differenziata promosso da RCS Sport in collaborazione con la cooperativa Erika, menzione speciale per il gruppo di volontari della Val di Dentro che durante la diciottesima tappa con arrivo ai laghi di Cancano ha presidiato le aree adiacenti al passaggio della Corsa Rosa e che nei giorni successivi ha pulito la salita che dal paese portava fino all'arrivo. La percentuale di differenziata ha superato il 92%, la premiazione che si è svolta in forma digitale ha visto collegati i rappresentanti di tutte le città di tappa più attente all'ambiente. La nostra provincia rappresentata da Gigi Negri, responsabile delle tappe valtellinesi del Giro ed Enrico Maccarini, consigliere di maggioranza del comune di Val di Dentro. Tra i comuni partenza di tappa il più riciclone è stato Lanciano mentre Sestriera ha primeggiato tra le località che hanno ospitato gli arrivi. Era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che potete seguire Teleunica anche sui social. Grazie per essere stati con noi, a tutti voi buona serata.